La Regione Marche, tramite il consigliere sanbenedettese Andrea Assenti, ha annunciato di essere disposta ad effettuare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo nosocomio a San Benedetto. Secondo il primo cittadino della Riviera, Antonio Spazzafumo, la priorità è però al momento il ripristino dei reparti e dei servizi al Madonna del Soccorso. L'amministrazione si dice comunque pronta a compiere tutti i passaggi necessari a individuare un sito idoneo. Tra le zone papabili, quella a cavallo con Monteprandone, ma anche l'area Brancadoro. È però indispensabile che vengano indicate prima le caratteristiche che l'area deve avere per accogliere una struttura di primo livello. Altrimenti non è possibile compiere alcuna scelta, spiega il consigliere Giorgio De Vecchis, da sempre in prima linea sul tema sanità. In attesa di una richiesta formale che individui il tipo di ospedale che vogliono collocare, che da Balduzzi è chiaramente un ospedale di primo livello, ma che dovrà avere determinati reparti, determinate strutture, un determinato numero di posti letto. Quindi la regione dovrà anche indicare, immagino, nella stessa tipologia per cui sta procedendo con gli altri nuovi ospedali marchigiani, le dimensioni dell'area. Libera San Benedetto invita dunque assenti e Palazzo Raffaello anche ad un consiglio comunale aperto, specifico per trattare l'argomento. Se ci sarà questa formalizzazione saremmo ben felici di riuscire, cercare di riuscire a trovare quest'area nel più breve tempo possibile per far sì che poi questo studio di fattibilità di cui abbiamo sentito parlare l'assessore assenti venga fatto nel più breve tempo possibile. Questo su un fronte strategico, non dimenticando che in questo momento, a prescindere da tutti i problemi dell'emergenza sanitaria pandemica, il nostro ospedale sta soffrendo una crisi in termini di uomini medici senza precedenti. L'unica zona delle Marche, a detta di De Vecchi, sa ad avere un'offerta di servizi sanitari sotto gli standard previsti dalla legge. Per quanto riguarda l'ubicazione, l'amministrazione lascia a campo libero i tecnici con un solo paletto. Ma l'ammodernamento dell'attuale struttura per quanto riguarda l'attuale amministrazione non è stato minimamente preso in considerazione perché è un'operazione che sicuramente, data la storia del nostro ospedale e l'ubicazione, noi come nella nostra visione di città è un ospedale di primo livello, al centro di San Benedetto, anche con una nuova viabilità, non esiste. Per quanto riguarda l'attuale struttura per quanto riguarda l'attuale struttura per quanto riguarda il nostro ospedale,